Perché venite? Per le grazie che lui ci fa. Lei ha ricevuto una grazia da San Nicola? Mi sono ribaldato col trattore, un mezzo aglio. Mi ha passato tutto sopra e mi sono salvato. Vuol dire che non dovevo morire per San Nicola. In quel momento ha chiesto aiuto a San Nicola? Sì. La fatica e la stanchezza scompaiono miracolosamente quando entrano in Basilica e si fermano dinanzi alla statua di San Nicola. Eccoli alcuni degli 8000 pellegrini che stanno arrivando a Bari per rendere omaggio al Vescovo di Mira. Ciascuno di loro ha una storia da raccontare, un miracolo ricevuto e tanta fede che ogni anno dà la necessaria determinazione per arrivare a piedi fino a Bari. Siamo partiti da Navasco al Pullman fino alla Madonna di Stignano poi siamo proseguiti a piedi. Quanti chilometri avete percorso? Un bel po'. In nome di San Nicola? Sì, in nome di San Nicola. Ogni anno venite qui? Sì, sì. Dalle 10 di questa mattina la Basilica di San Nicola è stata letteralmente invasa da pellegrini e devoti, molti di loro anche russi. Intanto, dinanzi al Sagrato, si comincia a preparare l'atteso spettacolo in 3D, il videomapping annunciato dal regista del corteo storico, Nicola Valenzano. E le sorprese riguardo i festeggiamenti in onore del Santo non mancano. Ieri sera c'è stata la ditta Paolicelli nella persona del suo amministratore Peppino Paolicelli, colui che effettua e realizza le rinominazioni, che ci offre, in onore di San Nicola, un evento al quale, con il priore della Basilica, abbiamo stabilito che questa sorpresa, al momento dello sbarco della statua di San Nicola, 8 maggio sera, ci offre un lancio di una mongolfiera, o un pallone aerostatico, che avverrà dal fortino di Ammolo Sant'Antonio, dove spaccherà appunto San Nicola. Ma la festa di San Nicola è dei baresi, che ogni anno la vivono tra fede e tradizioni popolari. Ma lei è devoto a San Nicola? Sempre. E come vive questi giorni? Questi giorni li vivo di euforia. Forse anche un po' di preghiera? Anche. Adesso usciamo proprio dalla Basilica, siamo andati a fare una preghiera a San Nicola. Io credo che San Nicola sia il nostro santo. L'unico miracolo che vorrei a San Nicola, prego sempre, è che abbiamo finalmente una classe politica degna di questo nome. Perché fino ad oggi San Nicola questi miracoli non li ha fatto. speriamo che questa sia la volta buona, che mandi via tutti questi personaggi squallidi e faccia la città di Bari, diventi realmente una città all'altezza del suo nome.